Brutto incidente sul lavoro questa notte nell'azienda Pantex di Sulmona, un operaio di circa 40 anni residente a Raiano, mentre ripuliva un macchinario, si sarebbe infortunato in modo importante alla mano destra, riportando l'amputazione di tutte le dita. Immediata la corsa a pronto soccorso dell'ospedale di Sulmona, dove è stato preso in carico per le cure e gli accertamenti del caso, raccapricciante la scena che si è presentata sotto gli occhi del personale sanitario operante. Tra sangue, preoccupazione, richieste di intervento presso centri specializzati come Ancona. L'uomo alla fine è stato ricoverato presso il nosocomio Peligno, questa mattina sottoposto a un delicato intervento urgente, seguirò dall'equipe del reparto di ortopedia. I sanitari sono riusciti a risparmiare solo parte di due delle cinque dita. Per il resto si è proceduto alla completa amputazione, visto il grave danno che ha portato alla compromissione completa di tutta la mano destra. L'incidente, da quanto si è appreso, sarebbe avvenuto per un'imperizia dello stesso operaio, anche se per prassi si svolgeranno i dovuti accertamenti. Tutti i colleghi lo hanno sostenuto, facendo il tifo per lui.